Salvatore Graziano, portiere dell'Ileggiana, 2 a 0, eliminazione. Come l'avete presa? È una squadra più attrezzata di noi e noi abbiamo avuto tanti infortuni per ora, quindi purtroppo è andata così, però la testa al campionato adesso. Il Leggiana, come ci diceva anche il vostro allenatore, coperta un pochino corta, vi mancano tanti elementi, no? Ci mancano elementi, infortuni, dietro, davanti, siamo un po' rattuppati. La tua prova è stata, tutto sommato, positiva, una grande parata sul colpo di testa, sulla conclusione di De Barba. Come vedi la squadra da dietro? No, dietro giochiamo bene, ci compattiamo, infatti abbiamo preso pochi gol nel complessivo, però il problema è davanti, bisogna concretizzare di più davanti. Sì, l'assenza di una prima punta mi sembra abbastanza palese nello sviluppo della manovra. Salvatore, naturalmente l'eliminazione in Coppa non pregiudica quello che sarà il proseguo del campionato. No. Che prospettive avete nell'immediato? Far punti prima possibile, ne abbiamo persi due col Sappada e due con l'Imponzo, quindi adesso testa al campionato e dobbiamo salvarci prima possibile. L'obiettivo è la salvezza, quindi. Come valuti questi tuoi primi tempi qui al Leggio? No, sono contento, sto trovando spazio al Leggio, sono fiducioso. Un discorso più in generale, come vedi il carnico? Questa ripresa dopo questa pausa, credo ci fosse voglia di giocare. C'è tanta voglia di giocare, anche il pubblico è presente, quindi è positivo il carnico. Per quanto ti riguarda, cosa ti aspetti da questa stagione? Mi sto divertendo, voglio divertirmi soprattutto e speriamo che la salvezza si centri così ci divertiamo tutti di più.